Voglio fare i complimenti dei giocatori che stanno facendo, una giocatoria straordinaria. Nonostante la presenzione in giro, la società di provincia dovrebbe gioire di quello che sta facendo. No avere la presenzione. Oggi abbiamo fatto una grande partita e se non credete alle parole guardate le cifre, che non voglio neanche snorciolare. Le cifre di questa sera hanno una grande valenza e allora bisogna dire bravi a questi giocatori, nonostante le difficoltà, nonostante le tensioni, nonostante tutto. Grazie.